signore e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria circondato dai miei cimili calcistici e con la mia brutta faccia particolarmente raggiante perché quest'oggi parliamo di uno dei cavalli da tiro degli alleati parliamo del nerbo delle forze corazzate alleate parliamo dello sherman parliamo del ciabattone americano che ha come dire contribuito grandemente alla vittoria sull'asse eccone qua un esemplare nel 1944 in europa in normandia allora cari signori cari signori cari signori il bello di facebook è che si entra in contatto veramente con persone realmente in gamba si entra in in contatto con persone che ti aiutano a capire tante cose che ti aiutano a pensare su certe cose la seconda guerra mondiale fornisce un range un ampio raggio di argomentazioni su cui discutere e il bello è che si trova come dire ed è bello potersi confrontare con persone che ne sanno più di te con persone che ti aiutano a capire certe cose e per l'ennesima volta devo ringraziare per questo video fin da subito l'amico gianluca bertozzi che ha scritto un interessante articolo che scritto una interessantissima valutazione dello sherman facendo tirando fuori le relazioni degli inglesi quando iniziarono a provare lo sherman ok allora l'amico gianluca bertozzi ci scrive che da più parti si tende a sminuire le qualità del carro sherman e a considerarlo rilevante solo per il numero di mezzi che fu possibile schierare una critica che insomma una critica una considerazione che molti fanno a proposito dello sherman allora questo giudizio però siamo sinceri è quantomeno ingeneroso per un mezzo affidabile potente di facile manutenzione e flessibile e operativamente flessibile cioè rendiamoci conto che accettò che insomma riuscì a portare senza troppi problemi il potentissimo cannone da 17 libre il 76 e 2 mm dello sherman firefly in pratica e questa cosa diede ai reparti corazzati alleati un mezzo in grado di contrastare i potenti carri pesanti tedeschi e soprattutto lo sherman era privo di equivalenti per gli alleati occidentali dall'ottobre 1942 sino al debutto operativo dei cromwell nel giugno 1944 ad overlord carro il cromwell che comunque non gli fu certo superiore allora l'amico gianluca bertozzi ha trovato online delle relazioni tecniche che ha provato a tradurre e ci scusiamo per i cattivi risultati perché descrivono alcune cose decisamente poco considerate quando si parla di carri armati allora quando all'inizio del 1943 i cromwell e i centaur furono provati dagli statunitensi si legge che la protezione dello m4 sherman era il nome che gli avevano dato gli inglesi gli americani lo hanno sempre conosciuto come m4 dicevo la protezione dello m4 era superiore ai corrispettivi britannici come pure la potenza di fuoco infatti se il cannone da 6 libre nei carri armati britannici era superiore al cannone da 75 dello m4 a 3 a corta distanza era invece inferiore a distanze maggiori inoltre la mancanza di un proiettile esplosivo era un grosso handicap ci aggiunge bertozzi che successivamente quando il cromwell adottò un 75 comparabile a quello americano lo sherman era già passato al 76 mm decisamente superiore mantenendo la sua superiorità di fuoco e per quanto riguarda la mobilità entrambi i carri armati britannici cioè centaur e cromwell avevano velocità più elevate rispetto allo sherman ma durante le prove furono riscontrate pochissime condizioni in cui questa elevata velocità poteva essere utilizzata con vantaggio il che se ci pensate ha senso non è probabile che tu corra sul campo di battaglia alla massima velocità non sai mai cosa c'è dietro l'angolo o dietro il prossimo cespuglio e non era un problema comune soltanto agli inglesi cioè pensiamo alle perdite tedesche per fuoco amico in normandia e il reparto michael wittmann prima della morte perse quattro tigre perse quattro tigre per fuoco amico perché in tratti in inganno dalla sagoma squadrata gli artiglieri del dei pezzi anticarro avevano avevano seccato quattro tigre scambiandoli per cromwell o per churchill allora le sospensioni tipo cristi sui carri armati britannici funzionavano senza problemi nella maggior parte delle condizioni tuttavia in determinate in determinati assetti le scosse diventavano quasi insopportabili per gli occupanti mentre il carro medio sherman non era soggetto a forti scosse neppure in queste condizioni l'affidabilità meccanica non era neppure comparabile come provò una un test di 14 ore di funzionamento il centaur non riuscì a superarla per problemi alla frizione ma sia il cromwell che lo sherman completarono con successo ma richiesero un impegno molto diverso se per ottenere o non ottenere questo risultato furono necessarie le seguenti ore lavorative per la manutenzione sturatevi le orecchiette carro medio sherman 39 ore cromwell 199 ore di lavoro centaur 202 ore di lavoro vanno intese 202 ore di lavoro uomo e questo senza contare la manutenzione di routine come il tensionamento dei cingoli che era ancora favorevole allo sherman e questa differenza era davvero un grosso problema quando si parla di interi battaglioni di veicoli e delle ore di lavoro richieste al personale di supporto che in seguito in battaglia sarebbe sicuramente schizzato a livelli impossibili da sostenere la facilità di manutenzione dello sherman pare facile ma che vi devo dire allora se questo rapporto potrebbe essere sospettato di preferenze nazionali cioè dato che parlano gli americani a proposito del loro sherman del cromwell e del e del e del centaur ma sentiamo un po che cosa dicono le fonti britanniche allora la superiorità in termini operativi continua l'amico bertozzi dello sherman apparve ancora nell'agosto settembre 1943 ovvero sia quasi un anno dopo el alamein il debutto operativo dello sherman con l'esercitazione dracula quando alcuni esemplari di centaur di cromwell di sherman m4 a2 col diesel e sherman m4 a4 col motore a benzina multibank guardatevi le foto su internet del multibank guardate che incubo di motore era va bene e questi mezzi furono testati in un percorso di 2000 miglia in gran bretagna gli sherman si dimostrarono molto più affidabili richiedendo un totale di 420 ore uomo di manutenzione su una distanza totale di 13.986 miglia ovvero sia 22.500 chilometri corrispondenti a 0,03 ore manutenzione per miglio percorso e credete che questo fatto conti poco in guerra ma continuiamo un attimo i cromwell percorsero 11.582 miglia ovvero sia 18.700 chilometri circa e richiesero 814 ore di manutenzione uomo ovvero sia 0,07 ore per miglio cioè più del doppio e non è poco e il centaur invece resse soltanto per 8.492 miglia ovvero sia 13.667 chilometri a causa dei continui guasti e richiese 742 ore di manutenzione ovvero sia 0,087 ore lavoro per miglio allora questa esercitazione dracula fu condotta direttamente dall'esercito britannico tra il 4 agosto tra il 4 agosto e il 22 settembre 43 e furono provati due cromwell 3 3 cromwell 1 3 centaur 3 sherman diesel e 3 sherman multibank a benzina il rapporto finale contrassegnato come top secret è stato presentato dal maggior generale ac richardson allora i primi dieci giorni di prova furono impiegati per la preparazione e il controllo dei veicoli a bovington praticamente la casa latana dei carristi inglesi il posto dove è custodito il famoso sherman cento il famoso tigre 131 ve lo ricordate allora poi dal 15 agosto al 12 settembre ci furono ci furono prove su strada e fuori strada in giro per l'inghilterra tornando a bovington dopo circa 2000 miglia il resto della man delle manovre fu di prove su strada intensive e fuori strada nelle vicinanze di bovington allora a causa bertozzi ci fornisce la documentazione di richardson che osservò a causa dell'entusiasmo mostrato da tutti e dello spirito competitivo tra gli equipaggi per ottenere le massime prestazioni possibili della macchina in dotazione è necessario premettere che i risultati sono probabilmente migliori di quanto sarebbe stato in condizioni di servizio attivo logicamente mi pare dove i servizi come aree di parcheggio pavimentate officine coperte e permanenti eccetera eccetera non sarebbero stati così facilmente disponibili per non prolungare eccessivamente l'esercitazione si è deciso di interrompere quando una macchina per tipo ha raggiunto 3000 miglia ciò non è stato possibile nel caso del centaur perché la macchina di questo modello che aveva coperto il chilometraggio maggiore quando cromwell e sherman raggiunsero le 3000 miglie aveva percorso soltanto 2500 miglia e lo fatto del carro era tale da precludere ulteriori prove senza revisionarlo insomma il centaur non era sicuramente un buon carro ma ne parleremo magari in un altro video queste comunque sempre riportate dall'amico bertozzi sono le opinioni generali del generale ac richardson l'uomo che come dire comandò l'operazione le esercitazioni chiamate dracula allora sentito un po le prestazioni degli sherman durante tutto l'eser durante tutta l'esercitazione sono state eccezionali per quanto riguarda affidabilità e durata e l'entusiasmo dimostrato dei loro equipaggi è la prova della loro fiducia in questo tipo di macchina ciò non riguarda solo la loro affidabilità meccanica ma anche rispetto alla loro capacità di combattimento come è stato chiaramente dimostrato quando il loro armamento è stato testato il centaur sottodimensionato inaffidabile e indesiderabile come carro armato per le sue caratteristiche che non si confrontano favorevolmente con i carri moderni cromwell spettacolare per quanto riguarda la velocità ma incerto per quanto riguarda manovrabilità e controllo a causa della scarsa affidabilità di sterzo e freni dubbi per quanto riguarda la durata oltre 2000 miglia a causa delle sollecitazioni subite dal motore meteor quando è montato nello scafo di un carro se il cromwell dovesse essere reso completamente affidabile dal punto di vista meccanico resta da considerare la questione della sua capacità di combattimento visto che attualmente l'installazione delle armi e dei sistemi di puntamento lasciano molto a desiderare gli inglesi non hanno mai badato molto all'ergonomia siamo sinceri allora osservazioni degli equipaggi allora le prestazioni del cromwell sono state molto deludenti in quanto senza eccezioni i guasti erano tutti vecchi problemi già evidenziati e si sperava che fossero stati corretti per quasi tutti gli equipaggi questa è stata la loro prima esperienza sui cromwell ed è stato evidente dopo i primi insuccessi che i piloti avevano perso fiducia in questa macchina tuttavia dal punto di vista puramente della guida tutti gli equipaggi hanno convenuto che è un bel carro da gestire e il motore da 600 cavalli è un deciso passo avanti e ricordiamoci che i carri inglesi prima del meteor versione per carri armati del merlin ok montavano quell'aborto di motore della del nuffield liberty e un giorno l'altro dovrò veramente parlare di quel motore credo che sia stata veramente una delle cose più abominevoli mai mai prodotte sotto forma di motore diciamola così comunque sia e dicevo allora il centaur invece offrivano i centauri invece offrivano fino a circa 1500 miglia prestazioni migliori rispetto alle macchine precedenti la sorpresa più grande è stata la frizione che ora appare efficiente mentre nei nostri precedenti modelli il massimo che si poteva percorrere prima che la frizione si rompesse erano 800 miglia il motore il nuffield liberty vabbè lasciamo perdere non è ancora a tenuta d'olio e il risultato è che i radiatori devono essere puliti costantemente gli alti consumi sono un altro problema ricorrente si può sperare che le unità ricevano queste macchine solo per addestramento aiuto vabbè per la loro contraparte gli sherman un un ufficiale carrista il capitano show fece le seguenti offermazioni allora gli sherman nel complesso sono estremamente affidabili e davano pochissimi problemi sul modello m4 a 2 i motori non hanno dato problemi e m4 a 2 e del diesel se non per il guasto iniziale dei due iniettori sul carro numero 9 gli iniettori su tutti i veicoli non sono stati toccati se non per verificare la corretta regolazione sul tipo m4 a 4 ovvero sia quello col motore a benzina multibank sono stati riscontrati pochi problemi ad eccezione dei normali lavori di manutenzione in corso allora il maggiore ronald dei westminster dragons scriveva invece che l'affidabilità che a proposito dell'affidabilità scriveva che la lezione principale di questa esercitazione è stata l'eccezionale affidabilità delle macchine americane tutte le mie idee continua a scrivere il maggiore ronald basate su due anni e mezzo di esperienza con un reggimento corazzato equipazzato con macchine inglesi hanno dovuto essere riviste e sebbene prima che iniziasse l'esercitazione ero incline a pensare che forse lo sherman fosse un po sopravvalutato ora sono completamente convinto della superiorità di questa macchina su tutto ciò che l'inghilterra ha prodotto fino ad oggi è evidente che il comandante di un'unità equipaggiata con sherman può essere sicuro di portare il 99 per cento dei suoi veicoli in battaglia almeno nelle prime 2000 miglia della loro vita d'altra parte se fosse equipaggiato con cromwell o peggio ancora centaur si troverebbe in uno stato di ansia continuo per assicurarsi che una quantità sufficiente dei suoi carri raggiunga il campo di battaglia per svolgere i compiti affidati alla sua unità praticamente continuano le condizioni di prova erano state eseguite in condizioni molto favorevoli per i mezzi particolarmente per quelli meno affidabili leggi centaur e cromwell lunghi percorsi insomma si sono svolti su lunghi percorsi ma lo squadrone ha sempre raggiunto la destinazione in tempo per effettuare interventi di manutenzione alla luce del giorno ma anche così le i mezzi di produzione inglese sono stati mantenuti sulla strada solo a forza di un duro lavoro ed è sicuro dire che non si incontrano mai tali condizioni durante le operazioni e naturalmente condizioni meno facili influiranno sfavorevolmente sulla fidabilità e sulla tenuta dei mezzi perché in battaglia non c'è l'hangar in battaglia non c'è il pavimento di cemento per tenere a livello il mezzo in battaglia non ci sono rimesse non ci non c'è la possibilità di fare lavoro in officina in prima linea ecco qua un buon risultato è stato ben raggiunto nel riportare al punto di partenza 13 dei 14 partenti originali dopo 2000 miglia attorno all'inghilterra va tuttavia ricordato che lo squadron ha avuto il vantaggio di un'assistenza tecnica di gran lunga maggiore di quella disponibile per il normale squadrone corazzato si trattava di prove logicamente quindi come dire l'efficienza era sicuramente maggiore rispetto a quella che si poteva trovare in prima linea e solo questo eccezionale supporto dei meccanici che ha richiesto molte ore di lavoro notturno che ha permesso a cromwell e centaur di essere riportati a bovington funzionanti in pratica i mezzi inglesi arrivarono alla fine della prova che logicamente per quanto fatte il più possibile in condizioni tra virgolette reali e operative era pur sempre una prova tra virgolette in casa una manovra un'esercitazione in casa logicamente insomma dall'idea il fatto che una manutenzione doppia rispetto agli sherman comportava una maggiore usura del personale una maggiore stanchezza del personale e allora la semplicità continua roland la semplicità e l'affidabilità delle macchine americane in contrasto con la produzione britannica è per me la principale lezione di queste manovre il cromwell potrebbe essere senza dubbio trasformato in un veicolo da combattimento altrettanto valido ma suggerisco una riprogettazione che abbia come oggetto principale la semplicità che a sua volta porterà affidabilità lezione che gli inglesi misero a frutto quando entrò in servizio il leggendario centurion probabilmente uno dei migliori carri armati di tutti i tempi ma sentiamo un'altra notizia riportata da dall'amico bertozzi a proposito sempre dei carri inglesi la fonte è il capitano priestley delle prestigiose cold stream wars allora in teoria gli equipaggi del cromwell dovrebbero dovuto essere facilitati in quanto durante le prime fasi dell'esercitazione dracula era programmato che arrivassero per primi a destinazione nella pratica e si tratta sempre della pratica ricordatevi una delle leggi di murphy un grammo di pratica vale molto più di una tonnellata di astrazione nella pratica dicevo tuttavia nella maggior parte dei casi uno o due dei cromwell sono sempre arrivati a tarda notte costringendo gli equipaggi a consumare il pasto in ritardo bloccando con lunghe attese i camion dei rifornimenti con conseguente perdita di riposo e sonno per un gran numero di persone oltre agli equipaggi dei carri armati stessi era anche evidente che i controlli e servizi post operativi richiedevano almeno un'ora e mezza che era molto superiore al tempo impiegato dagli sherman e di conseguenza gli equipaggi mostravano segni di stanchezza molto maggiori cosa questa molto importante ma io e l'amico bertozzi ne parleremo alla fine del video per il centaur valevano le stesse osservazioni del cromwell solo in misura molto maggiore perché il centaur era oggettivamente un aborto di carroma vabbè diciamoci la verità numeroso personale è stato impegnato per preparare il pasto agli equipaggi e rifornire i carri fu inoltre sempre necessario che i meccanici lavorassero tutta la notte sui centaur se avessero dovuto essere riforniti di munizioni non avrebbero mai potuto tenere il passo con il resto della colonna allora adesso si parla come dire il capitano priestly ci parla dello sherman col diesel l m4 a2 questi carri non erano preoccupanti da un punto di vista organizzativo arrivarono spesso anche prima dei cromwell dato che non hanno mai richiesto il rifornimento durante il viaggio i controlli e servizi postoperativi erano brevi e i loro equipaggi ricevevano sempre la loro cena calda e al momento giusto tutti hanno avuto una notte di riposo e se fossero stati impiegati solo questi carri armati ognuno avrebbe avuto molto più riposo e il cibo per tutti sarebbe stato migliore perché non consumato scotto e ripeto questa è una considerazione molto importante per lo sherman a per lo sherman m4 a4 ovvero sia quello col multibank a benzina e valgono le stesse considerazioni tranne per il fatto che hanno impiegato un pochino più di tempo per arrivare hanno creato qualche piccolo problema in più in quanto a causa del loro maggiore consumo di carburante ricordiamoci che il multibank se non ricordo male a qualcosa come 24 cilindri qualcosa del genere insomma sono tre motori incastrati uno sull'altro un incubo il multibank lasciamo stare dicevo era necessario provvedere al rifornimento di carburante durante il viaggio quando il resto dei carri armati poteva coprire il percorso abbastanza comodamente senza soste per rifornirsi allora dopo aver considerato i fatti è chiaro che gli equipaggi di tutti gli sherman avrebbero combattuto al 100% e sarebbero potuti entrare in combattimento in qualsiasi fase dell'esercitazione non ci sarebbero stati problemi nell'alimentazione e nel rifornimento di equipaggi e veicoli gli equipaggi dei cromwell o una parte di loro sarebbero stati più stanchi avendo dormito bene e avrebbero tenuto un gran numero di persone impegnate nella base per gran parte della notte i centaur non sarebbero mai stati nel posto giusto al momento giusto e il loro equipaggio sarebbe stato di scarso valore se avessero effettuato lunghe marce di avvicinamento o se fossero stati in azione per un certo periodo di tempo allora chiaro chiara la differenza ok continuiamo prestate orecchio fate attenzione continua l'amico bertozzi l'ufficiale al comando della colonna dei camion di prova il maggiore clifford ci parla del centaur e dice preferirei non condurre uno squadrone di centaur in servizio attivo ritengo che sia sottopotenziato e inaffidabile e richieda più manutenzione in relazione al tempo di funzionamento di quanto sia giustificato la fatica dell'equipaggio nel combattere e nel mantenere questo tipo di carro in linea di far la manutenzione è insuperabile questo carro può essere pericoloso per il suo equipaggio e gli altri utenti della strada abbiamo evitato per due volte brutti incidenti e sfortunatamente abbiamo avuto anche un incidente mortale il centaur era un bidone clifford a proposito del cromwell invece ci spiega che è un carro promettente ma ritiene che non sia ancora fuori dalla fase sperimentale solo per questo motivo non sarebbe completamente felice di portare in guerra uno squadron di cromwell anche se darebbero buona prova potrebbero dare buona prova se maneggiati in modo appropriato come tutte le cose del resto sembra che ci sia ancora molto da fare e la manutenzione sebbene non sia neanche lontanamente problematica come per il centaur è un grave problema quando gli equipaggi devono combattere guidare e mantenere per giorni e giorni la macchina in azione gli equipaggi quando sono stanchi sono confusi e incerti e sono decisamente sospettosi sull'affidabilità dello sterzo del cromwell allora sugli sherman c'era poco da dire secondo clifford è un carro che è praticamente senza problemi e personalmente clifford afferma che sarebbe lieto di prendere uno squadron di sherman e condurlo in guerra sono assolutamente affidabili e hanno un magnifico cannone che a mio parere sono le due principali i due principali punti di forza la loro bassa velocità rispetto al cromwell molto più veloce ha avuto un effetto minimo sul loro tempo per arrivare alla base ogni notte ciò era dovuto in gran parte al fatto che non si erano quasi mai fermati involontariamente durante la prova delle 2000 miglia la fatica dell'equipaggio era al minimo e il massimo riposo possibile ottenuto clifford dice testualmente sarei lieto di portare uno squadrone sherman in guerra anche domani e un cromwell dopo diversi mesi di prove e miglioramenti insomma allora allora ci dice l'amico bertozzi comunque che lo sherman fu un ottimo mezzo e che fino al 1944 quando il cromwell poté fornire quello che lui dava fin dal 1942 insomma il cromwell contemporaneo raggiunse il livello di affidabilità dello sherman due anni dopo nel 44 per dire e non ebbe lo sherman equivalenti in occidente e portò su di sé il peso di una guerra durissima allora l'amico gianluca bertozzi ci dice di focalizzare lo sguardo e il nostro pensiero e le nostre considerazioni sul capire l'impatto che aveva l'inaffidabilità di un mezzo allora l'amico bertozzi e anche io pensavamo che l'affidabilità volesse solo dire che ti potesse piantare nel mezzo di un combattimento o di raggiungere la destinazione non si era riflettuto non si è riflettuto sul fatto che un carro inaffidabile voleva anche dire equipaggi e personale di supporto esausti perché dormono poco e mangiano male che in combattimento non rendono e che dopo un poco si esauriscono stanchezza signori stanchezza inoltre una volta che arrivano i danni in combattimento la linea di supporto collassa perché è già sotto stress per gestire la manutenzione ordinaria e non ha i margini per riparare mezzi con danni lievi che vengono abbandonati questo spiega anche i ripetuti fallimenti inglesi in africa prima dell'arrivo dello sherman non era solo questioni di tattiche ma soprattutto il fatto che dopo poco tempo il sistema di supporto collassava e i rapporti non potevano più mantenersi operativi perché perché gli inaffidabili carri inglesi mettevano troppo sotto sforzo la catena dell'assistenza la catena logistica dell'assistenza e delle riparazioni perché come si vince da queste prove fatte in inghilterra nel 1943 i carri inglesi avevano ancora il problema di essere estremamente inaffidabili dalla manutenzione problematica, dalla costruzione, diciamoci la verità, approssimativa si pensava che l'adozione del motore Comet, il Merlin, il Rolls Royce Merlin adattato per l'uso con i carri armati le cose potessero andare meglio dopo l'abominevole Nuffield Liberty ma anche lì c'erano dei problemi perché il motore era eccezionale insomma parliamo di un motore da 600 cavalli che faceva letteralmente volare il Cromwell ma l'affidabilità era decisamente problematica quindi cari signori se avete considerazioni da aggiungere a quanto abbiamo detto io e l'amico Bertozzi come sempre ci sono i commenti per il resto arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!